Buongiorno ai lettori di Vercelli oggi, abbiamo il piacere e l'onore di avere al nostro microfono Don Gianni Sacchi, il parroco di Vigliano Biellese, vicario generale della Diocesi di Biella, ma soprattutto da poche ore, vescovo eletto di Casale Monferrato. Cosa può dire un saluto alla Chiesa di Casale Monferrato? È un saluto pieno di affetto, di gioia dal momento in cui mi è stata comunicata la nomina, certamente con grande preoccupazione, anche perché io ho sempre fatto il parroco, viceparroco e parroco, poi certo ho 15 anni vicario generale, però mi si apre una prospettiva completamente nuova, grande, diversa, con un grande peso e una grande responsabilità. e con l'aiuto del Signore e con la grazia del Ministero spero proprio di assolvere con tutte le mie forze quello che Papa Francesco mi ha chiesto di fare, cioè essere vescovo di Casale. Lo ringraziamo, noi siamo qui oggi per la solennità di Santo Eusebio presso il seminario Arcivescovile dopo la Santa Messa Pontificale del Patrono. Inutile sottolineare, i nostri lettori lo sanno bene, i legami storici e non solo spirituali della Diocesi Eusebiana, con quella all'Eramica, Santo Eusebio portò la Madonna Nera al Santuario ad Europa, dove poi sorse il Santuario, ma anche a Crea, luogo che certamente il nuovo vescovo non mancherà di visitare. Grazie ancora e molti auguri. Grazie a tutti.